Il Piemonte inizia il programma per risolvere il problema della carenza di medici. La regione infatti ha deciso di finanziare con risorse proprie 15 borse di studio aggiuntive per i medici specializzandi e di coinvolgere le fondazioni del territorio che finanzieranno, con il progetto adotto a un medico, ulteriori 35 borse di studio. La carenza di medici è il principale problema che la sanità, non solo piemontese, si trova ad affrontare. Un vuoto che rischia di accentuarsi con una brusca accelerazione dovuta all'introduzione della quota 100 nella legge di bilancio 2019. Obiettivo è riuscire ad avere tra due anni un'iniezione di medici preparati che presteranno servizio negli ospedali piemontesi, come spiegato dal governatore Alberto Cirio. La regione Piemonte risolve il problema dei medici, inizia il programma di soluzione del problema della carenza di medici in un modo molto semplice. Noi come piemontesi, con le risorse della regione, con le risorse delle fondazioni bancarie pagheremo la specializzazione dei medici che vengono a studiare in Piemonte vincolando loro a svolgere il servizio di attività medica per 5 anni nella nostra regione. In questo modo riusciremo tra due anni ad avere un'iniezione di medici giovani, freschi, preparati che vinceranno il concorso nazionale e che quindi saranno anche bravi e che presteranno i loro servizi negli ospedali del Piemonte. La Giunta ha approvato gli schemi di convenzione con le Università di Torino e del Piemonte orientale con i quali la regione finanzia con 1.900.000 euro 15 contratti di formazione medico-specialistica a decorrere dall'anno accademico 2018-2019 e per tutti i 5 anni del ciclo formativo come precisato dall'assessore piemontese alla sanità Luigi Icardi. Nel dettaglio i 15 contratti riguardano anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, medicina d'emergenza-urgenza, 4 ortopedia e traumatologia e 4 pediatria.